Siamo qui con il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo, per presentare un'iniziativa che inizierà nei prossimi giorni a Roma, al Circo Massimo, la prima volta che c'è un'iniziativa di questo genere così ampia ed è una sorta di mercato, fattoria, una maniera per far entrare i cittadini a contatto con il mondo della produzione agricola, nel vero senso della parola. Presidente, ci spiega di cosa parliamo? La grande bellezza delle campagne italiane arriva per la prima volta nel cuore della capitale, al Circo Massimo, 5, 6, 7 ottobre, quindi venerdì, sabato e domenica prossimi, un tuffo nell'ambiente della fattoria, a contatto con le aziende agricole, a contatto con i prodotti della nostra grande biodiversità e immersi in una vera e propria arca di Noè, dove si potranno conoscere, vedere, toccare con mano gli animali e le tantissime razze che gli agricoltori hanno salvato dalla estinzione con il lavoro di generazioni e generazioni. Quindi un grande modo per conoscere, in modo divertente, in modo intuitivo e poi per assaggiare i migliori piatti della tradizione romana e italiana. Anche nel nome della manifestazione si evidenzia proprio questa volontà di contatto, credo, con i nuovi. Il villaggio Goldiretti ha un hashtag StoccoiContadini e l'obiettivo è proprio quello, rafforzare in un'occasione di dimensioni mai viste il contatto fra città e campagna, la possibilità di conoscere davvero fino in fondo tutto sul cibo che mangiamo, qual è l'importanza di conoscere tutto questo. Il cibo è legato alla nostra salute, oltre che alla difesa dell'ambiente e dei nostri territori, quindi conoscere bene l'origine del cibo. Scegliere il cibo italiano vuol dire dare un'opportunità di futuro importante a tutto il paese. Parliamo di dimensioni, lo so che è molto grande, almeno passando. Stiamo parlando di 80.000 metri quadri, stiamo lavorando ormai da molti giorni per regalare ai cittadini di Roma e ai turisti che visiteranno il villaggio un'opportunità unica davvero, di conoscenza interattiva, ci sarà anche la possibilità di conoscere e provare le attività di pet therapy, quindi gli animali utilizzati per terapia e quindi per aiutare le persone più in difficoltà e poi l'esperienza dell'agriasilo per i più piccoli. Cos'è l'agriasilo? La possibilità di conoscere, quindi una ricostruzione dell'agriasilo. L'agriasilo è un asino nido o una scuola materna costruita dentro l'azienda agricola. In questo caso è una grande rappresentazione dell'agriasilo dove i più piccoli potranno fare le attività della campagna adatte ai bambini. Quanti espositori ci sono? Saranno centinaia e centinaia di espositori fra le aziende agricole provenienti da tutta Italia, un'attenzione particolare ai produttori delle aree terremotate che potranno essere aiutati facendo la spesa e facendo una raccolta di denaro che chiamiamo la spesa sospesa, quindi ogni cittadino potrà lasciare qualcosa nei salvadanai che ci saranno in ogni banco e tutto il ricavato sarà offerto alle persone più deboli della città. Come mai questa iniziativa? È un segnale anche di volontà di ritorno alla natura, all'agricoltura? Tutti i più grandi risultati che Coldiretti ha ottenuto negli ultimi anni li ha ottenuti perché di fianco agli agricoltori c'erano i cittadini, perché si è creata un'alleanza unica fra chi produce e chi consuma. Questa alleanza ci ha portato a vincere tante battaglie nel nostro paese come l'etichettatura d'origine obbligatoria che oggi dobbiamo invece portare avanti a livello europeo e quindi rinsaldare questa alleanza vuol dire creare nuova economia, creare nuova possibilità di vivere meglio, vuol dire dare un'opportunità a tantissimi giovani che oggi si stanno avvicinando all'agricoltura. Ecco appunto, stando agli ultimi dati, gli stati sono credo di ieri o dell'altro ieri per essere più esatti, l'agricoltura è uno di quei settori, è il settore che registra in termini percentuali l'incremento più elevato di occupati. Se lo spiegate in una qualche maniera, c'è una qualche ragione per questo? Beh intanto è così da molto tempo, negli anni peggiori della crisi l'agricoltura era l'unico settore che cresceva in termini di occupazione, quindi vuol dire che nonostante le difficoltà, gli agricoltori continuano a investire e poi c'è una grandissima attenzione dei giovani, l'Italia oggi è al primato europeo per numero di under 35 che guidano imprese agricole, ne abbiamo già 55 mila e altri 33 mila stanno facendo domande di insediamento in questi mesi, quindi è veramente un esercito pacifico che sta ripopolando le campagne, non sono sempre figli o nipoti di agricoltori, ma ci sono anche nuovi agricoltori, quindi nuove persone che vengono da altre esperienze della vita e che scelgono di impegnarsi nell'agricoltura per vivere e per lavorare. Che percentuale c'è rispetto al totale? Stiamo parlando di percentuali crescenti che ormai superano 7-8%, percentuali molto più alte rispetto a quelle degli altri paesi europei, quindi il ricambio inizia a sentirsi, a toccarsi con mano, ma soprattutto oggi l'agricoltura lavora non solo più nella produzione e nell'allevamento, nella coltivazione e nell'allevamento, ma c'è un ventaglio incredibile di opportunità dalle attività sociali a quelle di culturali, a quelle di trasformazione del cibo, a quelle turistiche, quindi servono tantissime competenze e tanti giovani che scelgono di lavorare in agricoltura possono arrivarci a partire da esperienze scolastiche molto diverse. Un'ultima domanda, visto che lei prima accennava all'etichettatura, state appunto promuovendo, avete già promosso una raccolta di firme a livello europeo per chiedere l'etichettatura degli alimenti anche a livello... Sì, noi abbiamo fatto grandi passi avanti in Italia, ma oggi abbiamo bisogno che l'esperienza italiana diventi patrimonio comune di tutta l'Europa, perché ci sia una regola uguale per tutti i paesi europei dove in ogni confezione di cibo ci sia scritta qual è l'origine, qual è il paese in cui quel prodotto agricolo, che è l'ingrediente principale, è stato coltivato, o qual è il paese in cui l'animale è stato allevato. Questo ce lo chiedono tutti i cittadini europei, non solo quelli italiani, per quello abbiamo lanciato questa campagna europea di raccolta firme, abbiamo un anno di tempo e iniziamo proprio nel villaggio di Roma a fare la raccolta delle firme.